Da qualche settimana a Pescara Tiva sta utilizzando dei particolari aspiratori per rifinire alcune zone, soprattutto del centro cittadino, ma non solo pulire da determinati rifiuti. Sì, certo, noi abbiamo acquistato un paio di settimane fa due di questi aspiratori che sono dedicati e debbono essere dedicati alla pulizia dei marciapiedi, delle aiuole, alla raccolta delle cicche, alla raccolta delle bottiglie di plastica, delle cartacce, quindi vengono utilizzati per migliorare il decoro non solo delle zone di pregio della città, ma saranno utilizzate sulla riviera, saranno utilizzate anche in particolari zone dove necessita un intervento che noi definiamo di rifinitura nella pulizia. La particolarità è che questi aspiratori possono aspirare anche sull'erba, sulle aiuole? Assolutamente sì, possono aspirare sull'erba, sulle aiuole, possono aspirare sulla strada, sul marciapiede, hanno un congegno che consente di aspirare anche in angoli particolarmente difficili da raggiungere, quindi sono due strutture, due attrezzature veramente molto funzionali appunto per la pulizia più raffinata, più indirizzata che non la pulizia che fa attiva normalmente con il servizio di spazzamento automatico, meccanizzato. Grazie a tutti.